...nulla da fare, cerca adesso di inserirsi Hakim sulla sinistra, guardate il tocco di palla del numero 90 a sinistra, cambia ancora la disposizione tattica dei rossoneri. Intanto qui c'è Mastur che ha preso un colpo alla nuca, mi pare del tutto ancora Albertazzi, vediamo Mastur che detta il passaggio, pregevole il gioco di gambe di Mastur, fa una cosa bella e una brutta perché poi sbaglia il passaggio e poi c'è un intervento falloso nella metà campo del Renate. Ecco, rivediamo intanto Mastur, guarda che giochino simpatico, poi però fa da ostacolo all'azione di Jovine, Mastur invece fa due numeri, niente male, alla fine subisce il pallo, vedete questo ragazzino di 16 anni contro ragazzi di 7-8 anni più grandi di lui, guardate con che facilità, guardate il talento di questo ragazzo, palla incollata al piede, destra.